Allora ragazzi, io penso che giorno dopo giorno la Roma stia diventando sempre di più una vera e propria scuola elementare con alunni che vengono sospesi per aver detto qualcosa di brutto nei confronti di preside o insegnante altri al quale vengono messe delle note per aver detto parole che non dovevano dire o come in questo caso alunni che vengono sospesi dal rispettivo club in cui sono andati in prestito per qualche video TikTok di troppo sto parlando ovviamente di Mirko Antonucci che era stato mandato in prestito al gennaio al Vittoria Setubal ma che oggi o probabilmente domani tornerà a vestire la maia giallorossa dopo la sospensione del prestito nella squadra spagnola cosa è successo per interrompere improvvisamente questo prestito che doveva durare fino alla fine della stagione? Tutto inizia dal primo gol del giocatore segnato qualche giorno fa in campionato e quello almeno apparentemente sembrava il momento più alto dell'esperienza del giocatore in terra spagnola che fino ad ora non era stato particolarmente entusiasmante poi c'è stata anche la pausa di mezzo quindi sicuramente quello ha influito il giocatore per quelli che non lo sanno è molto attivo sui social sia da solo ma soprattutto con la propria ragazza si diverte come ogni ragazzo 21enne della sua età o quasi a fare video così per scherzare video con delle canzoni sotto e appunto dedicati a TikTok che è un'applicazione che a me sinceramente fa neanche la voglio commentare cioè non giudico tutti quelli che la usano ma io personalmente la trovo un pochino ridicola vi dico la verità ma non lo sto giudicando per questo ma per quello che effettivamente è successo nell'ultima partita di campionato il vittorio a Setubala ha perso per 3 a 1 non so contro chi ma in generale ha subito una brutta sconfitta e la sua posizione in classifica è tutto tranne che positiva Antonucci per rispondere a questa situazione cosa ha fatto? ha semplicemente rifatto le sue solite storie i suoi soliti video su TikTok fregandosene altamente di quello che era successo alla squadra questa reazione tra virgolette del giocatore ha portato ad un commento dell'allenatore che ho deciso di segnarmi qua per intero perché è a dir poco clamoroso parlo di Giulio Velasquez allenatore del vittorio a Setubala per la storia del club e per rispetto verso i tifosi un giocatore del vittoria deve essere tale 24 ore al giorno la situazione è molto semplice il club, la direzione e lo staff hanno capito che il comportamento di un giocatore in prestito non era quello che volevamo né ciò che i fan meritano 24 ore al giorno dentro e fuori dal campo è stato comunicato alla Roma che il prestito termina ora e che non contiamo più sul giocatore soprattutto per rispetto dei tifosi e della storia del club e per tutti coloro che lavorano quotidianamente per rappresentare con la più grande responsabilità e dignità questa squadra io avevo capito che qualcosa non andava perché seguendo Antonucci su Instagram avevo visto un post in cui c'era scritto chiedo scusa a tutti i tifosi per il mio comportamento ed ora in poi chiuderò con i social network allora mi sono domandato ma cosa può aver fatto di così clamoroso e poi appunto sono uscite queste dichiarazioni che mi hanno fatto capire effettivamente quello che è successo io allora sono sempre dalla parte della società quando i giocatori si comportano male o meglio quando o meglio scusate vi faccio il discorso da capo un giocatore non può pensare di essere tutelato e di poter fare quello che gli pare semplicemente perché appunto calca il terreno di gioco puoi essere forte quanto ti pare ti puoi chiamare tizio ti puoi chiamare caio o sempronio ma se sei un professionista lo devi essere a 360 gradi quindi sono d'accordo in parte con queste dichiarazioni perché vuol dire che comunque questi dirigenti ci tengono che i propri giocatori che siano in prestito o a titolo definitivo si impegnino fino all'ultimo e onorino la maglia che indossano questo è un discorso assolutamente giusto e sensato però ragionandoci su mi viene da pensare ma veramente questi hanno interrotto un prestito nel momento comunque migliore nel momento in cui il giocatore stava pian piano trovando la continuità semplicemente per qualche video tiktok di troppo cioè io come ho detto in questo video considero quell'app un po' ridicola cioè non tutti quelli che la usano ma l'app in generale mi sembra un po' così un po' per ragazzini e sicuramente l'utilizzo eccessivo di questo social può essere un problema per un giocatore o per una persona comunque famosa in altri ambiti però al tempo stesso mi sembra una reazione forse troppo esagerata io mi sarei arrabbiato ci mancherebbe altro perché comunque voglio che i giocatori ci tengano alla propria squadra e soprattutto dopo una brutta sconfitta che rovina la classifica mi aspetto che non si mettano a fare video in cui si divertono ridono e scherzano mi darebbe fastidio da tifosi di quella squadra però al tempo stesso qua si parla di sospensione del prestito non è che parliamo di una multa o parliamo di una partita messa in tribuna cioè qua praticamente hanno detto no, rimandiamo a casa, tenetevelo voi, non ce ne facciamo più niente cioè secondo me sarebbe servita un po' una via di mezzo io con questo non sto giustificando Antonucci perché lo ripeto i social soprattutto devono essere usati con criterio perché qualsiasi cosa fai può essere tra virgolette usata contro di te però al tempo stesso penso che il rispetto per la maia bisogna cercare di capirlo in un certo modo nel senso fare una storia anche magari in cui ti diverti non vuol dire che non sei magari arrabbiato per la sconfitta della tua squadra cioè è un episodio così tranquillo a parer mio quindi cercare di ingigantire tutta la questione semplicemente perché appunto non ti è piaciuto il suo comportamento e mi è sembrato un po' così cioè io sono d'accordo con la volontà della società di volersi far rispettare cioè sono assolutamente d'accordo però credo che forse sia successo qualcos'altro cioè due esempi perché io ho visto i video perché ci sono degli articoli che mostrano appunto ecco i video incriminatori di Antonucci che hanno fatto infuriare i dirigenti li ho guardati sono video a parer mio un po' ridicoli cioè quei classici video che c'è la musica sotto si mettono a fare i balletti si mettono a fare i palleggi cioè ma rimangono questi rimangono cioè non è che ha fatto un video in cui ha fatto vittoria sotto ball vaffanculo capite per fare un esempio stupido cioè comunque mi sembra una cosa un po' esagerata chiudere il prestito e farlo tornare alla Roma anche perché ci mette tra virgolette un po' in difficoltà perché la Roma in cuor suo sperava che il giocatore facesse bene soprattutto portasse gli spagnoli a valutare un possibile acquisto a titolo definitivo cosa che per quello che è successo ovviamente non succederà mai adesso il giocatore sembra che tornerà appunto alla Roma e si valuterà se appunto tenerlo in prima squadra o rimandarlo in primavera io vi dico la sincera verità dal punto di vista tecnico non è un giocatore che mi ha impressionato cioè diciamo che forse per lui conta anche il paragone con Zaniolo che ha la stessa età ma ha qualità decisamente superiori però al tempo stesso mi è sembrato un giocatore un po' troppo acerbo e le sue prestazioni in campionati minori come appunto quello spagnolo perché credo il Vittorio Setúbal credo fosse in Serie B ma in generale comunque anche col Pescara non è che ha fatto grandi cose non mi fanno pensare che potrebbe essere un ritorno importante per quanto riguarda la Maia Giallorossa però vedremo un po' se Fonseca vorrà dargli qualche opportunità magari negli ultimi minuti di qualche partita decisa da diverso tempo e vediamo appunto se il giocatore riuscirà a riscattarsi spero che questo episodio comunque in ogni caso gli serva da lezione per capire che devi cominciare ad essere una persona seria devi cominciare ad essere professionale ed evitare di fare queste cose stupide però al tempo stesso reputo la reazione del club spagnolo non so se volutamente esagerata perché appunto volevano chiudere il prestito il prima possibile però in generale potevano gestirla meglio perché ok chiedere rispetto ok chiedere comportamento professionale ma se l'unico motivo per cacciare via un giocatore non fargli una multa cacciare via è qualche video in cui il giocatore fa un po' lo stupido dopo una sconfitta della propria squadra mi sembra un po' esagerato perché i giocatori ok che non possono credersi di essere sto cavolo ma non possono neanche pensare di essere in gabbia cioè non è che finita la partita devono fare i video in cui si frustano devono stare a piangere sul letto così cioè serve una via di mezzo né me ne freghismo ma al tempo stesso neanche il contrario cioè vabbè comunque in generale è un episodio che sinceramente noi romanisti potevamo evitarci perché in una settimana in cui si sono susseguiti la sospensione di Petrachi la multa a Juan Jesus per quel commento e adesso appunto la sospensione del prestito di Antonucci diciamo che a livello professionale non stiamo facendo una bella figura anche se a parer mio gli episodi in sé non sono stati tanto gravi ma sono stati gestiti a livello soprattutto di informazioni davvero davvero male quindi concludendo il discorso sono d'accordo con il discorso della società spagnola di volere dei giocatori che rispettino la maglia che indossano al tempo stesso reputo la loro reazione davvero a parer mio esagerata perché non si parla di una multa ma della sospensione definitiva del prestito del giocatore o mi fanno vedere che effettivamente il giocatore ha fatto qualcos'altro oltre a quei semplici video su TikTok oppure confermo la mia idea che potevano gestirla tranquillamente molto meglio un saluto dal vostro gledetore giallorosso fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo spiacevole episodio per quanto riguarda la Roma e Mirko Antonucci ci vediamo domani pomeriggio per il video del Roma Marcord su Roma Sampdoria che avrei voluto caricare oggi però non ho avuto veramente tempo tuttora non ho tempo ed infatti questo video sono costretto a farlo direttamente senza montaggio senza tagli eccetera eccetera ma spero che comunque si sia capito il mio pensiero un saluto e ci vediamo molto presto per un prossimo video ciao ragazzi ciao